Io oggi voglio parlarvi dell'origine del linguaggio. Il linguaggio nacque nel Mediterraneo, almeno nella misura in cui noi vogliamo tener fede a quello che dicono gli antropologi e altri studiosi, che cioè l'Homo sapiens, almeno lui se non il Neanderthal, discese dalle alture dell'Etiopia arrivando sul Mediterraneo. Pertanto è chiaro che il primo linguaggio che si manifestò nel Mediterraneo fu quello dell'Homo sapiens. L'Homo sapiens conosceva già l'alfabeto, nel senso che appena riuscì a tradurlo in segni, ecco che appare il primo alfabeto della storia 5.000 anni fa, l'alfabeto egizio. L'alfabeto nacque perché gli egizi avevano bisogno assoluto di esprimere il proprio linguaggio. I geroglifici che poi vedremo sono una conseguenza del loro alfabeto. Non dobbiamo essere ingannati da questi segni, questi bei disegni. Loro esprimevano un alfabeto con questi disegni. Poi l'alfabeto più evoluto che noi conosciamo, lo riteniamo evoluto solo perché lo abbiamo adottato, è quello cosiddetto fenicio. Ma anche quelli sono dei segni arbitrari, né più né meno come questi. Dobbiamo abituarci ad avere una mente molto libera nel considerare queste cose. Per cui dobbiamo prendere atto del fatto che gli inventori dell'alfabeto furono gli egizi e intuirono anche nel momento in cui si misero ad esprimere il linguaggio con dei segni, con dei grafemi, intuirono una cosa fondamentale che noi loro eredi, diciamo così, ci siamo già dimenticati. Loro sapevano che la parola ha un significato profondissimo ed è da considerare né più né meno come un melograno, il quale ha la buccia grigiastra, ruvida, inespressiva. Però poi quando lo apriamo che cosa contiene? Una miniera di rubini gustosissimi. La stessa cosa, lo stesso fenomeno ce l'abbiamo nella parola. se la vogliamo analizzare. Perché oggi noi abbiamo le parole già confezionate, per cui abbiamo per esempio il muscolo e dobbiamo fare uno sforzo di memoria per ricordare la cosa, perché non è semplice. Gli antichi avevano formato la parola osservando il topo, perciò anche qui come vedete, ci troviamo confrontando musculus, il latino musculus col topo, ci troviamo di fronte al melograno che il musculus è coperto dalla buccia e poi, zack, vediamo il topo e si apre di colpo. Capiamo perché nacque quella parola. Muscul significa che si raccoglie in sé, ha lo stesso significato di cagliare, del serpente, che si raccoglie in sé, più muccul. Questi sono i concetti primitivi da cui nacquero le parole. Le parole nacquero nella osservazione di altre cose. Nacquero cioè per analogia, non nacquero così, così, dal niente. Nacquero sempre per analogia. Anche questo tipo di muscolo lo vedete. In Sardegna come è chiamato? Piscioni. Anche questo ha il referente nel sumerico pesh, topo, più unu, selvaggio. Pisciunu, pesciunu. Era il ratto. Infatti il piscione è un po' diverso dal muscolo del braccio. Questi due concetti sono sopravvissuti nel Mediterraneo. Uno presso i latini, uno presso i sardi. Che la parola fosse come un melograno. Gli egizi l'avevano capito da sempre. Nell'inventare l'alfabeto non si limitarono a segnare le lettere dell'alfabeto per indicare una parola. Ma poi ci misero a fianco i geroglifici per esprimere meglio il concetto. Perciò abbiamo sepe. Questo e è un po' arbitrario perché gli egittologi lo utilizzano in analogia ad altre parole che loro hanno scoperto o studiato. E in ogni modo lo ritroviamo sepe presso i latini. Significa frequentemente, spesso. Gli egizi non si limitarono ad esprimere i due segni ma ne misero a fianco un terzo che è un geroglifico, il sole per indicare l'eternità. In più ci misero la quaglietta che per loro era il segno indiscutibile che non poteva ingannare nessuno per indicare la pluralità. Tutti i plurali sono espressi presso gli egizi dalla U. Per loro la quaglietta indicava la U. In più, oltre a questi due geroglifici, utilizzavano per il sepe anche queste tre stanghe, il numero tre per intenderci, il numero tre, che per loro significava la pluralità. Per cui sepe era appoggiato da questi tre geroglifici che ne esprimevano la natura. Come vedete, gli egizi avevano tutto l'interesse di far capire al popolo che leggeva la grandezza, l'importanza di una parola che così detta senza nessun riferimento appariva come uno sforzo mnemonico. Poi se gli mettevano a fianco i referenti, ecco che la parola ad ogni utente si apriva come un melograno. Noi ci siamo dimenticati di tutto questo fenomeno e riteniamo la lingua egizia molto complessa, mentre non lo era affatto. In ogni modo abbiamo già capito e intuito che una parola si può capire solo se la disintegriamo, se la apriamo appunto come il melograno, per capirne il significato profondo. Nel fare questa operazione noi facciamo quella che viene detta l'etimologia, cioè l'etimologia è quell'operazione che porta a scavare nei dizionari fino alla prima apparizione della prima parola che si assomiglia e che ha lo stesso significato di quella che usiamo attualmente. Ecco, naturalmente non tutti sono edotti sulla tecnica etimologica, anzi sono in pochi in realtà, perché sbagliano anche la maggior parte dei docenti universitari. In ogni modo parliamo intanto dell'uomo senza una base culturale profonda, che conosce per esempio solo il sardo. Quando deve cercare il significato di una parola, e spesso lo fa, confronta quella parola sarda con un'altra parola sarda. Perciò sardo con sardo, chi conosce l'italiano, sono la maggioranza, confrontano il sardo con l'italiano e per cui sono portati a pensare automaticamente, direi ciecamente, che quella parola sarda è confrontabile con l'italiano, per cui deriva dall'italiano. Ecco, nasce il concetto della derivazione, che è un concetto sbagliato. Altri che conoscono anche il catalano si accorgono che molte parole sarde sono identiche o simili al catalano e allora subito vanno a pensare che, in base alla loro falsa teoria della colonizzazione, quelle parole siano state portate dai catalani. sardini. Se poi uno conosce anche il latino, il confronto viene fatto anche con il latino, per cui se oltre al catalano vedono che quella parola è ancora più antica e rapportabile al latino, non ci pensano due volte a dire che quella parola sarda deriva dal latino. Il concetto di derivazione, perciò di supremazia, perciò di colonizzazione, è un concetto sbagliatissimo nella linguistica, non è mai stato valido, mai. Nel Mediterraneo noi dobbiamo parlare invece, proprio come origine, di una lingua mediterranea, una coine mediterranea, che si formò uguale per tutti. Se poi ce le ritroviamo, le singole lingue mediterranee scompartite ormai, oggi però, dopo 5, 6, 10 mila anni e più, ce le ritroviamo suddivise già. E perché appunto col passare della storia c'è stato il fenomeno della dialettizzazione, chiamiamolo così, cioè della scompartizione di una lingua in varie parlate, che col tempo per vari fenomeni si sono pian piano distinte, ma che rimangono ancora confrontabili l'una con l'altra. Noi dobbiamo parlare della lingua mediterranea e quando parliamo della lingua mediterranea, la quale non è altro che un prodotto dell'Homo sapiens, dobbiamo pensare anche che essa nacque già molto evoluta, perché noi siamo abituati a confrontarla al massimo con l'Egizio, il quale è stato scritto 5 mila anni fa. Però l'Egizio esisteva prima ancora che venisse scritto. Esisteva da 10, 20, 30, 40 mila anni. Ecco, per cui è anche intuitivo che questa lingua, se è vero che l'Homo sapiens deriva dall'Etiopia, questa lingua scese pian piano lungo il Nilo e si affacciò sul delta, da dove poi conquistò tutte le coste. Il fatto che fosse già matura quella lingua, matura in ogni senso, non stiamo a discutere adesso la definizione di matura, lo ritroviamo per esempio nei dipinti di Altamira, anche di Chauvet, eccetera. Ecco, i dipinti di Altamira sono di una perfezione assoluta che soltanto Rembrandt riuscirebbe oggi, come ieri, come ieri, nei secoli passati, a dipingerla, a dipingere quegli animali. Quando Picasso vide i dipinti di Altamira esclamò, lui era un grande artista, esclamò che dopo Altamira tutto era decadenza. Lui lo disse dal punto di vista artistico, però è chiaro che se è decadenza decadenza l'arte da 40.000 anni fa c'è decadenza anche in altro, in molte cose. Noi dobbiamo pensare all'uomo sapiens, al creatore del linguaggio, come a un uomo molto, ma molto evoluto, anche se qualcuno ci porterebbe a non crederlo. E pertanto dobbiamo imparare anche a capire che probabilmente la navigazione cominciò già col Neandertal e al massimo l'uomo sapiens la perfezionò. Noi, per quanto riguarda il linguaggio, ce lo troviamo ormai sparso per il mondo. Sappiamo che una lingua monosillabica come quella egizia nacque anche presso i Sumeri. Li vedremo tra poco. I Sumeri avevano una lingua monosillabica e agglutinante come quella egizia. Chi erano i Sumeri? I Sumeri erano costruttori di città. Infatti, quando gli accadici giunsero a conoscere i Sumeri, li chiamarono proprio popolo che vive nelle città. Con parola sumerica perché è anche l'accadico. Non è altro che un sumerico ormai agglutinato due, talvolta tre parole, ma originariamente erano tutti monosillabi. Con la lingua sumerica che loro vennero a conoscere o perlomeno che conobbero come una lingua più o meno identica alla propria, ecco che scrissero per la prima volta nella storia la parola sumeru. Analizzandola per monosillabi abbiamo Su, popolo, me, stare, re, città, o, uru, città, su, me, ru. Questi Sumeri non sono altro che una costola degli Egizi. Infatti, gli Egizi, una volta giunti sul delta, mica se ne stettero lì, anche loro giunsero a saturazione, trovarono dei momenti in cui o per carestie o per altre cose dovettero separarsi ed ecco che iniziò la colonizzazione del Mediterraneo e lentamente la colonizzazione dell'est. Si spostarono lungo la terra di Canaan e giunsero in Mesopotamia dove, per grande fortuna, conobbero una terra fertilissima con due grandi fiumi e chi li spostava più da lì. E così scopriamo che la lingua egizia e quella sumerica non solo sono apparentate, si può dire al 100%, ma sono ambedue primitive, nel senso che sono monosillabiche e sono ambedue agglutinanti. Questo ce la dice molto chiara la questione. Come successe tutto questo? Ma è semplice, no? L'uomo inizialmente, quando iniziò la sua espansione, gli bastava il suo linguaggio semplice e agglutinante, ma semplice non significa che erano solo di due o trecento parole. Il dizionario sumerico, per come lo conosciamo, è ricco di decine di migliaia di parole. E poi anche la lingua calica, come sappiamo, è ricchissima. Comunque, volevo parlare del fenomeno, dello spostamento in sé. veniva chiamato già da allora, già 5-10 mila anni fa, versacrum, la quale pertanto non è una parola latina, come la gente dice. La ritroviamo scritta in questo modo, versacrum in Livio, nel libro ventiduesimo, ma non significa primavera sacra, come la intendono i latinisti. Deriva invece dal sumerico e dall'egizio, contemporaneamente. In sumerico, beh, ber, bir, tagliar via, strappare. In egizio abbiamo più chiaro il concetto, ber, uscita, fuoriuscita. Saker, viaggiare. Perciò uscita, bersaker significò uscita e viaggiare, uscita e mettersi in moto, e spostarsi. Per cui possiamo interpretarlo oggi come viaggio di distacco. Questo era il versacrum originario. e ce lo ritroviamo persino presso gli ebrei nella Pesach, dove adesso la Pesach ha perduto le R finali, ma troviamo la loro base in P, lasciare la patria, letteralmente. Sono parole sempre egizie. Più sacchi, raccogliere assieme, assemblare, da cui anche la parola italiana sarda, latina, saccomo, e addirittura anche greca, sacchi. Sacchi serve appunto per assemblare, per mettere, raccogliere insieme, mettere le cose dentro. P, sacchi, raccogliersi per lasciare la patria. Questo è il significato originario della Pesach, cioè della Pasqua ebraica, a quale indicò, come sapete, appunto il distacco dal popolo egizio. Abbiamo imparato che le parole primitive erano tutte monosillabiche. Noi comprendiamo le parole attuali se nel confrontarle con quelle più antiche del Mediterraneo prima le disaglutiniamo. Pertanto la parola Nora, che è anche un toponimo, indicò una delle città che si dice fondata dai Fenici, no? Una delle città sarde. Nora significa bagliore, luce del sole, sottointeso, e deriva dall'Egizio nu, ra. Sono due parole. Ra è il Dio del cielo, il sole, il Dio, insomma, per antonomasia, Dio per antonomasia, e nu significa cielo. Pertanto, nura significa letteralmente Dio del cielo. Sono due parole. E impariamo anche un'altra cosa, che ra viene posposto a nur, mentre noi oggi lo mettiamo prima, ra, Dio del cielo, lo mettiamo dopo il rapporto genitivale, segue, mentre prima il rapporto genitivale veniva espresso inizialmente, mentre seguiva la parola costituente, il concetto. questo fenomeno lo ritroviamo poi anche in parole, per esempio, ebraiche. Elianora, che è una parola ebraica, e poi divenne una parola mediterranea, abbiamo un quadrisillabo, Elia più Nura, Elianora, che significa letteralmente bagliore del sole, Elianora. Elia è già una parola in sé presso gli ebrei, perché è stata già agglutinata, significa letteralmente il Dio El, cioè il Dio sole, Eia, cioè l'antica Dea Luna, perciò vanno identificate un solo Dio, Elia, Elia, il famoso profeta Elia. Nura sappiamo già che significa, bagliore, ecco, lo troviamo per esempio in accadico con il significato già di bagliore, già come parola agglutinata, bagliore, luce, nur, da cui anche l'arabo nur, e insomma ce lo ritroviamo in tantissime altre parole. Noi le parole che utilizziamo oggi sono tutte agglutinate, pertanto dobbiamo ricordarci che il nostro vocabolario non è altro che un antico dizionario agglutinato. Per esempio Rosa, ecco, coloro che pensano, e sono praticamente tutti al mondo, escluse poche teste sane, coloro che pensano che tutto derivi dal latino, almeno nel linguaggio mediterraneo, pensano che Rosa derivi dal greco Rodon, ma sbagliarono di grosso perché Ro può andare, ce l'abbiamo nel Mediterraneo in generale, in sardo, eccetera, e anche in greco, ma la seconda sillaba Don del Mediterraneo, presso gli Egiti, i greci, non può essere confrontato con Sa, invece il confronto, il confronto è perfetto quando lo guardiamo presso gli Egizi, Ru Sha, fiore della malizia, Ru malizia sa fiore, vedete anche qua, il rapporto genitivale è capovolto, della malizia a fiore, è un po' identico, non è identico, proprio alla sintassi anglosassone, che so io, home ceiling, il soffitto della casa, ecco, il soffitto viene dopo, che è il concetto, mentre home, che è il rapporto genitivale, viene prima, home ceiling, e come vedete, la tradizione linguistica di tutta l'Europa si rifà sempre alla tradizione egizia e poi a quella sumerica, espressa magistralmente e poi dalla lingua acalica, dalla siro, dal babilonese e dall'ebraico, chiaramente. In accadico abbiamo l'egiziano rusha già agglutinato, ruzu, ruzu, che significa incantesimo, cioè ha già perduto il significato di fiore e significa soltanto incantesimo, però ha mantenuto gli antichi concetti questo incantesimo riferito a un fiore, ruzu, l'incantesimo perché l'incantesimo presso i babilonesi, gli accadici, eccetera, indicava l'atto di una donna quella procedura che serviva ad incantare un uomo, magia positiva. Tutte le parole, pertanto, abbiamo imparato che sono che sono agglutinate, comprese quelle complesse, per esempio il latino penetralia, la parte più interna di un santuario, e deriva dall'egizio penetrar, letteralmente tesoro del Dio, pi, relativo a, netter o nettr, Dio, ar tesoro. Infatti, noi sappiamo che il tesoro, tutti i templi avevano un tesoro, perché ogni tempio era adorato da uno, cento, mille, diecimila persone, ogni tempio dedicato al tale Dio. E tutti, ovviamente, portavano i doni, chi poca roba, chi molta roba. e i doni non deperibili, per esempio i doni non in grano, ma come corone d'oro, d'argento, le monete d'oro, d'argento, venivano posti nel penetrale, nel punto chiamato proprio tesore, tesoro del Dio. Così fu sempre nell'antichità per ogni tempio e in ogni tempo, tal che la moneta per antonomasia, che noi parola mediterranea deriva dal latino in questo caso, la moneta indicava originariamente la dea era moneta, cioè la dea era ammonitrice, letteralmente. Nel tempio della dea moneta, veniva messo, anzi, veniva addirittura stampata la prima moneta degli antichi romani. un'altra parola composta agglutinata è aurora che molti fermandosi sempre al latino confrontano con aurum, ma l'aurora non è dorata, l'aurora è semmai rosata, aurora dalle dita rosate. ritroviamo scomponendola, disagglutinando aurora, ritroviamo i componenti in egiziano aur partorire, ur grande dio e ra dio sole. pertanto aurora significò in origine colei che partorisce il grande ra. Capiremo perché, no? perché i miti antichi parlavano sempre di morte del sole o cattura principalmente del sole al suo calare e la sua detenzione durante la notte in una prigione e poi all'alba veniva liberato o si liberava o presso gli egizi veniva ripartorito dalla dea mater universale che era la terra come sappiamo. Anche Roma è una parola agglutinata naturalmente questo gli indo-europeisti e i latinisti eccetera non non lo sanno e l'unico loro raffronto è quello di confrontarla con Rome una parola greca che significa forza potenza ma dobbiamo tener conto che Roma ebbe il suo nome già nel 753 avanti Cristo quando nacque in forma di poche capanne di paglia sul palatino si chiamava già così Rome perciò che c'entrano queste poche capanne di paglia con la potenza è incredibile se noi leggiamo Servio che era il commentatore di Virgilio nell'Eneide sappiamo che l'antico nome del Tevere era Rumona ecco da cui Romanus che ha il significato di fluviale ossia Tiberino ne resta traccia di questo nome in porta romana che stava nella cinta primitiva mentre nella cinta serviana essa corrispose a porta flumentana però sempre una porta che portava direttamente al fiume tenete conto che i romani finché poterono costruivano sui loro colli perché già Tito Livio documenta che nelle parti basse Roma veniva allagata molto ma molto spesso porta flumentana Rumona deriva dall'egizio ru distretto mu acqua na grande perciò significò grande distretto d'acque Roma è una parola di per se stessa già semplificata senza quel na Ruma significa semplicemente distretto di acque abbiamo questo Ru anche nel greco Roa flusso d'acqua come vedete anche Roma è un nome egizio possiamo tradurlo volendo anche con lo somerico perché tra il somerico e l'egizio ci passa molto poco possiamo dire che il passaggio poi lo spiegheremo meglio il passaggio tra la Valle del Nilo e la Valle Mesopotamica portò anche a una progressiva differenziazione più che delle parole dei loro significati più profondi perché il fenomeno del linguaggio è proprio quello di man mano che ci si allontana dalla parte originaria mediante il processo del versacrum si giunge poi a il mondo è fatto così la storia è fatta così la gente è fatta così i concetti pian piano si trasformano e si evolvono in altri concetti però spero che per voi sia chiaro l'idea che la lingua originariamente nacque nel Mediterraneo il linguaggio originariamente nacque nel Mediterraneo e la sua prova fondamentale sta innanzitutto nel fatto che le singole parole in origine erano monosillabiche perché l'uomo in origine parlò a monosillabi è intuitivo non sto qui a spiegare dovrei farvi una piccola lezione ma non è proprio il caso di farvela in questo momento tutto quanto vi ho detto basterebbe come lezione di etimologia per farvi capire come nacque il linguaggio come si come di lagone nel Mediterraneo e oltre verso l'est verso l'India verso la Cina eccetera e insomma come si evolvete chi non è in grado di fare le etimologie beh mi viene candidamente di dire se ne stia a casa però molti tutti professori non moltissimi tutti i professori attuali delle cattedre di linguistica e non solo e credono di aver raggiunto l'Empireo e di poter dare tutte le traduzioni di questo mondo utilizzando soltanto il latino naturalmente invito tutti a mandare a prendervi i dizionari etimologici del latino del greco e di tutte le lingue mediterranee per capire lo sfaccello che hanno creato costoro perché non avevano capito l'esigenza fondamentale di staccarsi dalla lingua di Roma per avere un'idea globale del mediterraneo utilizzando tutte le lingue che apparvero e che sono note grazie ai dizionarie e alle grammatiche che oggi per fortuna troviamo in vendita non da oggi ma da oltre cento anni come dire che le università le accademie per quanto riguarda le etimologie sono arretrate a dir poco di cento anni io sono conosciuto da tutte le accademie da tutte le accademie del mondo ma ovviamente ancora di più sono conosciuto dalle due accademie sarde dalle due università sarde e dalle loro propagini che potremmo identificare visto che parliamo di antichità in cosa le identifichiamo le propagini se non nelle sovrintendenze archeologiche io sono stato sempre conosciuto oggi come oggi nessuno mi conosce perché tutti i docenti universitari hanno preso tali distanze da me da essersi rinchiusi nella Turrise e Burnea e da lì non escono assolutamente non vogliono confrontarsi non so se per paura o per quale motivo non vogliono confrontarsi con me ma mi conoscono bene circa vent'anni fa quando io presentai il mio primo libro con molta non curanza non chalance loro signori si presentarono alla presentazione del mio primo libro forse perché erano curiosi beh vediamo che dice il dottor de Dola anche lui adesso si è messo a trattare le questioni dell'antichità vediamo cosa dice sui toponimi della Sardegna io espressi le mie teorie di fronte a si può dire a tutta la sovrintendenza archeologica di Cagliari con a testa il dottor Santoni il quale molto pazientemente mi ascoltò sempre con sorriso sulle labbra e quando io ebbi terminato prese la parola per primo ricordandosi che io ero un suo vecchio collega di banco all'università però prendendo immediatamente le distanze perché disse che io in tutto il mio discorso avevo vagato tra le nuvole avevo tratto le mie etimologie dalle nuvole mi ero inventato tutto ed era ora che mettessi i piedi per terra perché la vera ricerca scientifica si fa con i piedi per terra una grande lezione quella del dottor Santoni il quale concluse dicendomi proprio queste testuali parole dottor de Dola noi archeologi andiamo terra a terra e voleva dire ovviamente che loro tengono i piedi per terra in ogni modo e in più il significato era a doppia via perché andavano terra a terra perché scavavano pertanto loro solo dagli scavi trovavano il materiale che poi confrontavano per tutto il Mediterraneo eccetera loro andavano terra a terra io andavo sulle nuvole non si rendevano conto del fenomeno etimologico non si rendevano conto che è ovvio che se io voglio capire capire che cosa significa la parola rosa in Sardegna che ha generato perfino moltissimi cognomi rosa rosas de rosas eccetera questa parola se la vogliamo analizzare bene vuol dire che è antichissima altrimenti questi cognomi non esisterebbero neanche esisterebbe a limite la parola rosa in quel caso sì che dovremmo prenderla dal latino no in latino invece hanno la parola ma non hanno i cognomi i cognomi ce li abbiamo noi i cognomi sono antichissimi nomi personali pertanto rosa già due tre quattro mila anni fa in Sardegna era un nome muliebre che indicava l'incantesimo o la malizia che produce l'incantesimo ed era un nome appunto di donna è un nome meraviglioso no riferito al fiore beh i loro signori non lo sanno vanno terra a terra noi un glottologo serio un etimologo serio se vuole capire invece il fenomeno deve prendere questa parola e che fa fa un salto di millenni ma non per arrivare sulle nuvole no ricade per terra perché trova che millennia dietro quelle parole esistevano e lo scopre proprio grazie ai dizionari esistenti sono in vendita chiunque li può acquistare dai dizionari esistenti per esempio ecco io cito spesso l'egiziano eccolo qua i due volumi del Wallace Buggi che sono scritti addirittura con con i geroglifici qua non so se si vede con i geroglifici sono scritti chi vuole imparare impari chi non vuole imparare non impara fatto sta io faccio salti di millenni ma toccando sempre terra perché se non ho i raffronti con le antiche lingue io non mi metto a inventare parole che come vedremo fra poco loro invece ci hanno inventato a bizzeffe bene io mi attengo alla come dire alla poesia del foscolo ai sepolcri il quale diceva le muse le pimplee del mortale pensiero animatrici siedon custodi dei sepolcri e quando il tempo con sue fredde ali vi spazza fin le rovine le pimplee fan liete di lor canti i deserti e l'armonia vince di mille secoli il silenzio l'armonia lui lo disse poeticamente l'armonia e la parola pertanto il foscolo riuscì a cantare le gesta degli antichi non inventandole andandole a pescare sulle nubi no semplicemente prese Omero e gli altri scrittori dell'alta antichità e da lì apprese tutte queste cose pertanto quelle cose erano già scritte 3.000 anni fa 2.500 anni fa e proprio se vogliamo andare per il sottile andare terra terra come dice il dottor Santoni dobbiamo ricordarci che lo stesso Schliemann scoprò Troia scoperse Troia solamente perché si era letto l'Iliade si era letto Omero e da lì per induzione giunse a scavare la collina di Isarlick e ne mise fuori questo grande tesoro ecco lo Schliemann andava terra terra come me ma non terra terra come il Santoni fare etimologia significa quasi come fare lo scavo archeologico noi etimologi quelli seri dico eh perché sono rari sulla piazza gli etimologi seri fanno lo stesso scavo archeologico in questo caso nei dizionari che fanno gli archeologi per esempio il professor Lilliu quando scavò il suo nurage qua indico nella slide la prima linea che grossomodo corrisponde a quanto appariva al di fuori all'aria quando Lilliu iniziò a fare il suo scavo la seconda linea indica più o meno il livello romano nel senso che se Lilliu avesse scavato solo per 4 metri fermandosi egli avrebbe detto che tutta la civiltà sarda non è altro che civiltà romana e che pertanto il mare nostrum era un pelago romano in ogni senso e che pertanto noi sardi bla 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 in realtà lui scavò fino ai 19 metri quando trovò la base rocciosa e lì scoperse tutta l'antica civiltà degli sciardana gli archeologi scavano io scavo solo che loro si attengono a quanto dice la scuola linguistica la quale ancora oggi è preda è comunque fomentatrice di una colossale mistificazione perché come origine delle lingue ci mettono l'indo europeo se poi vogliono scavare più in fondo si loro intuiscono che c'è più a fondo dell'indo europeo qualcosa e parlano di paleo indo europeo se vogliono andare ancora più a fondo nei millenni parlano di pre paleo indo europeo ma come vedete nella slide l'indo europeo se voi comprate un qualsiasi dizionario tutte le parole indo europee sono indicate con un asterisco che per convenzione internazionale indica parola inventata parola inventata quando parlano di paleo indo europeo significa parola doppiamente inventata cioè ancora più dubbia pre paolo indo europeo tre dubbi fortissimi cioè allora perché vanno a parlare di queste cose quando non hanno assolutamente l'idea chiare per loro l'indo europeo è la base di tutto e da lì nacque tutto secondo secondo loro il germanico nacque prima del latino per esempio e furono i germani tra duemila e mille anni prima di Cristo a portare il latino in Italia pertanto il latino deriva dalla lingua germanica tutto questo è incredibile guardate tra il germanico e l'indiano quanta distanza c'è è molto semplice pensare che dal delta l'uomo costa a costa se ne sia andato verso l'atlantico poi abbia passato le colonne vercole eccetera e lo stesso da qua se ne sia andato verso la Turchia passati i dardanelli e aggirò il Mediterraneo ed è semplicissimo capire che dopo la terra di Canaan l'uomo sempre andandosene lungo i paralleli nelle zone temperate o un po' calde superò alla fine anche la valle dell'Eufrate e se ne andò in Iran poi in Pakistan e poi in India e così via l'uomo passò sempre nelle zone temperate ecco poi dalle zone temperate chiaramente risaliva i fiumi il Rodano il Danubio il Volga il Dnieper il Don e così via le risaliva guarda a caso questi fiumi venivano risaliti perché andavano da nord verso sud orientativamente perché perché man mano che le grandi glaciazioni scioglievano si scioglievano e cedevano i loro ghiacci i ghiacci appunto sciogliendosi creavano le valli fluviali che andavano verso sud insomma pertanto è intuitivo che l'uomo dalle zone temperate risalisse queste valli fluviali che si scioglievano e giunsero fino a toccare la calotta polare ma non riuscirono mai a vivere sulla calotta polare se è vero che quella conteneva fino a tre chilometri di ghiacci noi abbiamo la dimostrazione scientifica del fatto che l'uomo risalì sempre verso il nord anche qui dal fiume Mekong risalì sempre verso il nord sempre verso il nord fu portata la lingua e non viceversa loro sostengono che la lingua invece nacque qui in questo punto in questo punto e la chiamarono lingua indogermanica o indoeuropea che è la stessa cosa da qui guardate un po' questa lingua si espanse verso l'India fu portata in Europa dai germani che prima stavano in questa zona e comunque dagli indogermani germanici e poi guarda caso discese verso l'Italia e tocco anche la Grecia bontaloro si crea in questo caso un triangolo d'oro vedete un triangolo strettissimo dove si evolvette il loro il loro il loro linguaggio non il mio linguaggio tutto questo ha dell'incredibile e allora come riusciamo a capire che quel monosillabo anglosassone che indica il reggiseno deriva dall'egizio bra basket cestinetto come riusciamo la parola norge nel nord Europa nurchi nel mediterraneo dove abbiamo anche il cognome sardo non sto a dirvi come nacque questo cognome nel mediterraneo in ogni modo norge significa letteralmente il paese dei bagliori si parlava chiaramente si parla e si parlò delle aurore boreali anche la parola nord è una parola sumerica nord il sumerico abbiamo nurdu cioè significa letteralmente prigione della luce nur sappiamo che è la luce il sole il dio sole eccetera du prigione perché quando tramonta il sole viene imprigionato dal dio della notte ecco nord e se voi andate a vedere invece nei vari dizionari etimologici di tutte le lingue europee vedete che ogni popolo ogni etimologista respinge queste parole indicanti l'orientamento a tutti gli altri popoli non è mia non è nostra è spagnola gli spagnoli dicono no è inglese gli inglesi dicono no ma forse è italiana andate a leggere i dizionari e vedrete la pantomima per non ammettere che è una parola sumerica così come sono sumeriche o egizie che è lo stesso tutte le altre parole relative all'orientamento sud deriva letteralmente dal sumerico sud preghiera proscinesi e si capisce perché l'interpretazione ci vuole nella linguistica chi non sa utilizzare l'interpretazione se ne stia a casa e allora è chiaro capire che tutti i popoli antichi al momento in cui il sole stava più in alto a mezzogiorno facevano il saluto al sole la proscinesi lo facevano all'alba ma anche principalmente all'ora a mezzogiorno ancora oggi questo fenomeno lo conosciamo con i musulmani bene questa parola ust sud la troviamo capovolta in egizio invece che shut ust adorare uset pregare a pregare a capirete no? che il sumerico e l'egizio sono apparentati al massimo grado west west proprio west è la parola originaria da cui noi abbiamo o west dove mettiamo uv quel w noi lo leggiamo noi mediterranei lo leggiamo come uv e tutto il resto rimane identico est west dal sumerico u universo esce sepolcro de creatore west de significò già in origine sepolcro del creatore dell'universo sappiamo per quale motivo no? perché il sole all'occaso al suo cadere oltre la terra plaf cade nel suo sepolcro momentaneo ben inteso est anche est deriva dal sumerico esce sepolcro tuc rompere in questo caso es tuc rottura del sepolcro perché ad est il sepolcro si rompe e il sole e rompe dal suo sepolcro velocemente entriamo nel mediterraneo per sempre c'eravamo già la prima però chi non vuole intendere che la lingua è nata nel mediterraneo non lo intenda non importa non abbiamo bisogno di loro io sto parlando a chi vuole intendere non a chi vuole rinchiudersi nella turri seburnea a ricevere soltanto lo stipendio prendiamo per esempio la parola acciaio questo per farvi capire come è nato il linguaggio acciaio è una parola che capiamo molto bene e ovviamente tutti possono pensare che sia nata con la metallurgia cioè con il processo di battere di fondere e battere il ferro per creare l'acciaio sì ma questo processo sappiamo da quando c'è l'età del ferro sappiamo da quando data l'età del ferro ma la parola acciaio va come dicevo all'inizio sempre decomposta proprio disaglutinata per poterla capire nel profondo dobbiamo spaccare il melograno altrimenti non capiremo mai il fenomeno del costituirsi della lingua mediterranea acciaio in italiano a zargio in campi danese a tario nel sardo centrale a tarzo in logodorese in tardo latino abbiamo aciarium e ovviamente ci riferiamo alla aces in latino è la punta la facoltà di penetrazione ma se poi andiamo a vedere nel visionario egizio abbiamo tutti i componenti da cui comporre agglutinandoli la nostra parola acciaio abbiamo az colpire distruzione morte e ci richiama all'effetto dell'acciaio limato a dovere più ari azari servire in armi servire nell'esercito perciò l'acciaio era fatto apposta per essere usato nell'esercito per la guerra abbiamo anche altre parole egizie aziu aziu con doppia z cioè letteralmente sono coloro con questa un finale che vi ricordate indica il plurale sono coloro che colpiscono o per far male coloro che scannano letteralmente gli aziu ecco in egizio oltre a quello abbiamo anche la parola acce vedete le varie pronunzie az in sardo ce le abbiamo tutte le pronunzie ce le abbiamo in ce eccetera in italiano solo in ci in egizio abbiamo appunto questa parola calamità accia letteralmente un atto cattivo un atto malevolo più ar disgrazia per cui l'acciaio insomma l'acciario era appunto un atto cattivo per creare disastri calamità questo era l'acciaio complessa sembrerebbe complessa la questione ma non lo è io ho fatto questo discorso per farvi capire come nacquero le parole come nacquero la civiltà mediterranea in sardegna e qua entriamo in un altro fenomeno che vi fa capire sempre legato ai metalli come nacque il linguaggio mediterraneo abbiamo in sardegna sacqua madaglia cioè l'acqua benedetta l'acqua perciò da proteggere importante perché è sacra deriva l'accavico madallum accavico babilonese matallum pietra preziosa pertanto l'acqua benedetta nostra è sempre riferita alle pietre preziose dell'antichità pietre preziose perché in origine 40.000 anni fa 30.000 anni fa l'homo sapiens che faceva le pietre preziose non tutte ma molte erano addirittura in superficie non faceva altro che con un bastone duro scalzarle e portarsele via cioè le pietre preziose sono come dire antiche note all'uomo così fin dal momento in cui creò il proprio linguaggio e le chiamò matallum pietra preziosa da lì innaque poi l'idea del metallo che era una cosa preziosa ricorderete tutti che quando l'imperatore degli titti mandò sua figlia in sposa al faraone mandò come dono di nozze un pugnale d'acciaio perché valeva infinitamente più dell'oro figuriamoci bene rimaniamo un po' in Sardegna perché anche della Sardegna dobbiamo parlarne essendo la famiglia di noi sardi colei che ha mantenuto praticamente intatto l'antico linguaggio infatti si può dire che ancora oggi il nerbo centrale del Sardo il Sardo autentico non è altro che un antico sumerico un antico egizio un antico accadico un antico babilonese nessuno venne ad occuparci fu l'homo sapiens che creò tutto e da lì nacque il miracolo della lingua mediterranea vediamolo per esempio in Karalis la capitale Sarda chiamata così da Livio ecco Tolomeo 150 anni dopo la chiamò invece Karalli con due L questo Karalli è confrontabile con Karallu parola babilonese che significa gioiello perché la parola gioiello è riferita chiaramente al corallo perché il corallo gioiello corallo gioiello perché l'uomo primitivo ancora prima di sapere usare gli strumenti di affinazione di scalfitura eccetera trovava i sistemi per ripulire in qualche modo il corallo rosso della Sardegna e venderlo in tutto il Mediterraneo in tutta Europa come un autentico gioiello invece coloro che sono fermi all'indo-europeo che come dicevo una lingua inventata dicono che Karallis deriva la Kar roccia parola indoeuropea alla quale per loro dignità mettono premettono l'asterisco chiamandolo roccia però in realtà se voi andate a cercare tutti i dizionari quelli veri non quello indoeuropeo vedete che Kar non esiste in nessun dizionario almeno nel senso di roccia perché lo ritroviamo presso i sumeri per esempio ma col significato di molo che è un'altra cosa perché se vogliamo proprio parlare di molo allora potremmo anche starci ma in quanto Karallis nacque nella laguna se quelle sponde lagunari le vogliamo chiamare molo e va bene in ogni modo Karallis nacque in laguna e non sulle alture di Sant'Elia o roba del genere come i latinisti indo europeisti gli inventori di questa parola vogliono far credere è che dobbiamo abituarci a pensare che tutte le parole tutte compresi i suffissi va bene compresi i suffissi tutto nacque presso gli antichi popoli del sud presso l'Acadico presso il Sumerico presso l'Egizio compresa io nella mia grammatica ho analizzato decine e decine quasi un centinaio di suffissi e tutti derivano da antiche parole da antichi concetti da antichi vocaboli da antichi vocaboli questo Sa questo finale in Sa preziosa armoniosa scontrosa viziosa eccetera derivano originariamente dall'Egizio Sa persone individuo e poi divenne anche pronome in Accadico è già pronome e basta ed è dall'Accadico all'Accadico pertanto che noi riferiamo questa Sa che la ritroviamo in Ichinusa Ichinusa che lor signori sempre i soliti sostengono che non deriva sì dal latino ma deriva dal greco iknos orma e non si rendono conto che in babilonese abbiamo la stessa parola in Accadico la stessa parola iknu orma ma in Accadico iknu ecco ha ha anche l'altro significato di lapislazzuli cioè minerale blu col quale pestandolo gli antichi egizi dipingevano le volte delle loro tombe in blu era un minerale costosissimo ben inteso ma proprio perché era costosissimo il lapislazzuli portò a identificare con esso l'acqua del mare gli egiziani per la verità l'acqua del mare la indicavano col colore verde da cui abbiamo la parola egizia e Accadica contemporaneamente iknuzda va bene ik quella a che vedete qui nella slide quella a veniva pronunziata tendenzialmente come ik i pertanto abbiamo ik green nu la massa d'acqua primordiale più sa che abbiamo imparato a conoscere per gli egizi la massa d'acqua primordiale era il mediterraneo perché loro conoscevano solo quella pertanto ik nusa era quella che stava in mezzo alla massa d'acqua primordiale altro che se gli egizi conoscevano la sardegna iknusa chi non la conosce ancora sono sempre i latinisti o i grecisti che non vogliono guardare nella quarta sponda del mediterraneo e così è anche sandaliotis per esempio una parola composta che Attilio Mastino Giovanni Ugas Roberto Casti e tantissimi altri riconducono inevitabilmente al sandalo e così come iknusa viene ricondotta all'orma sandaliotis non può che essere ricondotta al sandalo perché già così interpretavano gli antichi greci ma loro non avevano gli strumenti che abbiamo noi oggi pertanto questi signori devono smetterla di ripetere dopo 2500 anni le solite storielle si debbono aggiornare devono prendere i dizionari che sono in vendita e consultarli compulsarli e vedere cosa ne possono cavare fuori invece delle loro fantasie assurde queste gente che come il sovrintendente delle antichità camminano terra a terra gente che cammina terra a terra non si rendono conto che sandaliotis è composta da accadico sa quella di antali occidente più utu guardiano delle porte il guardiano delle porte delle porte della città eccetera era un guerriero santaliuttu significò ai tempi dei nuragici la guardiana dell'occidente sembra del tutto ovvio se vogliamo interpretare il nome che la sardegna era potentissima in quei tempi non importa come poi divenne perché se per quello già l'antica Grecia dopo 200 anni dalla città più potente del Mediterraneo pardon parlo di Atene la città di Atene la città più potente del Mediterraneo quando i romani andarono a invadere la Grecia si trovarono un paesello di morti di fame di gente senza arte né parte che non sapevano più costruire neanche una barca ecco questo lo dice Tito Livio per cui si vede che se una città perde il suo potere se un'isola perde il suo potere se una nazione perde il suo potere è chiaro che poi regredisce rapidamente così è successa l'Atene e così è successa la Sardegna però Sandaliotisi significa la guardiana dell'Occidente ricordiamoci definitivamente che il primo nella storia della scienza ad aver stabilito con più o meno esattezza quale fosse la forma della Sardegna fu Ptolomeo ecco diede le coordinate più o meno esatte diede e pertanto dalle sue coordinate si riuscì a fare una carta più o meno corrispondente alla Sardegna però se è vero che già gli antichi greci volevano riferire Icnusa e Sandaliotis alla Orma o al Sandalo perché non hanno preso ad esempio la Corsica che è molto più simile a un Orma e a un Sandalo e non la Sardegna che non ha assolutamente forma di piede o che so altro questo è un Uraghe l'abbiamo già visto passiamo adesso al significato delle dei quattro fondamentali monumenti che troviamo in Sardegna il primo è il Nuraghe in Sardegna abbiamo vari dialetti per cui vari nomi Nurachi Nuragi Nuraghe e deriva dal sumero accadico Nura luce bagliore più chi luogo sito è il luogo della luce il Nuraghe cioè l'altare del Dio Sole la chiesa di Ra creatore Nuraghi i preti bizantini certo fecero polpette di questa parola dovevano smantellare l'antica credenza dei Sardi che credevano nel Dio Sole dimenticando che gli stessi romani credevano nel Dio Sole infatti imponevano all'intero popolo soggetto di adorare gli imperatori come il Dio Sole se ricordiamolo loro dovevano smantellare una volta che il cristianesimo aveva vinto e chi li teneva più dovevano smantellare le antiche religioni ci misero una fatica enorme ma riuscirono a tal punto da vincolare ancora le menti i cervelli dei professori universitari che insegnano nelle nostre università i quali continuano a dire che Nurra parola inventata dei bizantini significa mucchio di pietre per Nurra i bizantini intendevano le nuraghe e significa contemporaneamente spaccatura profonda quelle che portano agli inferi Nurra le spaccature per esempio le voragini che si trovano nel supramonte Nurra ha due significati mucchio di pietre in altezza e spaccatura in abisso in forma di abisso dove si poteva trovare appunto il diavolo l'inferno e il diavolo questa è un'invenzione medioevale voluta ferreamente dai preti bizantini e inghiottita come fosse miele da Giovanni Ugas da Roberto Casti e da tutti gli altri che ho citato sono costoro che stanno ancora oggi governando la scienza e la coscienza di noi sardi mentre se la gente mi desse retta dovrebbero essere mandati in pensione teniamo conto di un fatto che loro però non sanno è Ugas Casti eccetera non lo sanno che se gli antichi sardi avessero voluto nominare una torre difensiva non avrebbero usato la parola nuracchi o nuraghe perché avevano già il nome per la torre difensiva ed era Denti Dintu da cui deriva anche è il cognome Denti Dente lo ritroviamo anzitutto nel Condaghe di Silchi ecco deriva dall'accadico Dintu torre di guardia ci vuole per poca capire che la torre di guardia è identica al Dente e che il Dente è identico alla torre di guardia da qui il cognome Denti Dente pertanto si capisce da questo siccome Denti è un antichissimo cognome derivante da un più antico nome personale riferito evidentemente a un uomo era un nome virile Denti torre di guardia cioè si capisce che questo nome è di origine nuragica va bene e non di origine odontoiatrica come potrebbe dire Ugas abbiamo anche le controprove per questo no perché per esempio abbiamo il nuraghe Arrubiu e la gente Arrubia controprove che riguardano il re perché i nuraghi almeno i più grandi erano anche abitati dai re perché essendo abitazione sacra luogo sacro lo abitavano in certi casi quelli più grandi come il più grande di tutti quello di Santantine di Torralba oppure altri che ne abbiamo come il nuraghi Arrubiu di Orroli per esempio polilobati quelli avevano la funzione non solo di altare del dio sole ma anche di abitazione del re se non abitava proprio lì il re abitava nelle capanne accanto perché dobbiamo tener conto che tutte le capanne nuragiche attorno ai nuraghi non erano altre che capanne in funzione sacra non erano abitati da una popolazione l'esempio ce lo dà proprio il paese di nurri il quale sta distante dal villaggio nuragico tre chilometri eppure avrebbe potuto abitare nel villaggio no abita tre chilometri lontano perché il villaggio era sacro e in tutte quelle capanne ci abitavano le persone che avevano funzioni relative alla frequentazione pertanto c'era anche colui che faceva il pane fresco colui che batteva il metallo e perché lo batteva batteva bronzetti e così via lo batteva li batteva perché poi i pellegrini come arrivavano compravano tutto questo materiale e lo davano in dono all'altare del dio sole gli enti arrubia i fenicotteri vengono chiamati così dal sumerico enti uccello più accadico rubu re enti rubu uccello reale nuraga rubiu nuraga del re questo è un pozzo sacro il più bello di tutta la Sardegna quello di Tattino guardate un po' quanto è profondo ha tre architravi incredibile queste visto ortogonalmente visto in sezione il pozzo sacro aveva o non aveva un nome certo che ce l'aveva Cabella Cambella o Cambedda abbiamo questi tre cognomi che indicano letteralmente il pozzo sacro andiamo adesso al gigantino alla tomba dei giganti bene questo gigantino voi osservate che secondo la teoria del 100% di loro signori ha la sagoma del toro con le corna chiaramente secondo la teoria di una sola persona del qui presente dottor Salvatore De Dola invece questa è la sagoma della Dea Mater Mediterranea che partorisce che ripartorisce metempsicosi ripartorisce i morti che le erano stati infilati attraverso questa porticina perché dico questo perché questa porticina è esposta verso il sole uno se poi volessimo capire se veramente apparteneva al toro questo monumento questo monumento e allora perché non aprire c'era lo spazio la porticina qui dove dovrebbe stare la bocca del toro no fu aperta qua pertanto non è il toro questo è la Dea Mater Universalis che apre le gambe per partorire lo vediamo meglio qui in questo gigantino dove di fronte alla vulva della Dea Mater c'è il circolo solare che lambisce e tocca letteralmente la vagina è o non è questo il Dio Sole che feconda la vagina della Dea Mater in modo tale da far rinascere tutti i morti che gli erano stati infilati dentro non lo vogliono credere i loro signori no perché lo dice il dottor Salvatore De Dola e allora vediamo qual era la parola che indicava la tomba dei giganti nell'alta antichità nel nord Sardegna per l'Ada si intende proprio quella centina quella grande pietra centinata col buco in basso dove si può entrare solo strisciando piccolo così piccolo che indica proprio la vagina della Dea Mater l'Ada si chiama l'Ada quella pietra ancora oggi nel nord Sardegna uguale al cognome l'Adu e Latte uguale e viene dall'accadico aladu valadu partorire ecco perché io dico che quella è la Dea Mater partoriente questa parola ritroviamo anche in Egizio ricordandoci che la L in Egitto in Egitto veniva pronunziata fenomeno fenomeno che ritroviamo anche nel Sassarese per cui Rait consorte di Ra è colei che partorisce Reth Reth e sempre in Egizio è il genere umano spero spero che queste tre prove siano sufficienti per Casti per Ugas per tutti gli altri che gli stanno attorno facendogli bordone che capiscano definitivamente non ne sono certo perché sono rinserrati nella Turri di Seburnea dove non riescono a ricevere neanche la posta nessuno riesce a fargli sapere a comunicargli neanche via internet come stanno le cose spero che qualche illuminazione divina discenda almeno dall'alto questa è la Domus de Janas anche questa aveva un nome ben inteso no? tutti i monumenti antichi della Sardegna avevano un nome chi non ha voluto scoprire sono loro signori i vari Ugas i vari Casti e tantissimi altri che gli tengono bordone le Domus de Janas in Sardegna ebbero due nomi Domus de Janas nel sud e Domus desas fattas nel nord e però hanno due nomi Domus è anche questa parola sumerica comunque non stiamo qui a sono tutte parole sumeriche Diana ce l'abbiamo anche in latino Dianus che lo dice la parola ecco lei che brilla ecco Dian brillare più am sky Dian significa letteralmente le brillanti del cielo le splendenti del cielo indicavano fin dall'origine le stelle le ste le in in Egizio ce l'abbiamo ugualmente Gianu sono quattro dei che stanno in cielo verso l'est del cielo poi abbiamo nel nord Sardegna Sasfadas le fate ecco ma le fate erano ugualmente le Gianas la stessa cosa cioè sono le stesse cose chiamate le stesse gli stessi personaggi chiamati con due nomi infatti fate deriva dall'Egizio Faiti idea che supporta il lato ovest del cielo oppure può essere dall'Egizio sempre Pat un gruppo di esserini che abitavano nella nell'inferno cioè nella parte più bassa della terra il Tuat che non significa inferno nel termine attuali tutto ciò che non stava nella terra presso gli Egizi stava sotto terra nel regno dei morti il Tuat è il primitivo regno dei morti degli Egizi e pertanto ecco questo connubio Fadas che è collegato sia alle Gianas sia alle Fate in questo senso potevano essere quelle che brillano nel cielo e quelle che stanno sotto terra da qui nacque quell'idea bislacca dei Bizantini di farne esseri che escono dalla terra per tribolare il genere umano queste erano le Fadas e in ultimo abbiamo le pietre sacre le sasperdas fitas le quali avranno anch'esse un nome l'hanno avuto oggi le chiamano perdas fitas cioè pietre infisse queste ebbero addirittura quattro nomi in sumerico abbiamo kudr tagliare in accadico kudurru tagliato che non è altro che saperda fitta veniva chiamata kudurru in accadico tagliato perché perché quella pietra non ha quelli così fu tagliata dalla base rocciosa e scolpita in quella forma abbiamo ancora questa radice nel sardo nel nord sardegna scordoclare cioè slogare spezzare perciò vedete che kudur skudur da cui la metatesi scord il kudur ce l'abbiamo ancora in sardegna il kudur lo spezzato poi abbiamo un altro nome di sasperda sfitas betel in sardo betilli è una località a sadali da cui anche il betilo presso gli ebrei che era quella pietra su cui poggiò la testa Abramono se ricordo bene che deriva dall'egizio bet trono più ar generare betar trono del creatore letteralmente figurati che significato profondo ebbero le pietre fisse nell'altissima antichità c'è anche un altro nome in sardegna non solo betilli non solo kudurru ma anche ilianu albero in accadico ilanu dio deita da ilu dio sommo ce l'abbiamo in saperda iliana la quale non a caso è a forma di pietra proprio sbozzata come certi monumenti dell' dell'Arizona per esempio un quarto nome ci viene da saperda idocca che significa letteralmente in accadico il lucco una pietra preziosa saperda idocca è la località da cui hanno tolto o scavato questi queste pietre fisse che però erano già scolpite perciò un po' più avanzate rispetto a quelle grezze che abbiamo visto prima appartenenti al territorio di goni ecco queste pietre qua furono trovate quasi tutte in territorio di perdel d'occa che significa letteralmente la pietra preziosa di Grazie a tutti. Grazie a tutti.